Buongiorno a tutti, 27 marzo 2020. Continuiamo a vivere un'emergenza globale e si pone anche il tema della ripartenza, probabilmente di come costruire un nuovo sistema economico-sociale. Stiamo inoltre finalmente assistendo all'utilizzo della comunicazione e dell'innovazione tecnologica e digitale per migliorare la società, per innovare la società e risolvere dei problemi concreti. Il 18 marzo abbiamo lanciato Start the Future, global event online che si terrà il 7 aprile in occasione della giornata mondiale della salute. Rifletteremo insieme a start-up, imprese, organizzazioni non profit, cittadini, professionisti, giornalisti, su attività e progetti per risolvere l'emergenza attuale e anche ripartire. Abbiamo individuato quattro challenge, l'educazione, la salute, i cambiamenti climatici e la digital transformation in alcune industrie, quali ad esempio il turismo piuttosto che il retail o il mondo della cultura, dello spettacolo. E' questo infatti il momento della cooperazione internazionale digitale. Abbiamo riunito per questo evento attori dal Messico, dalla Cina, da Malta, dalla Romania naturalmente dall'Italia, dalla Spagna, per lavorare insieme. Sarebbe stato molto bello vedere i vari attori statali, i vari stati, riuniti insieme per affrontare questa emergenza e sarebbe ancora più bello rivederli ora seduti a lavorare a un nuovo sistema economico-sociale. Speriamo che accada presto. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è provare a costruire un futuro sostenibile e migliore rispetto a questo. Nelle settimane passate abbiamo lanciato una serie di iniziative. Il 2 marzo abbiamo lanciato azione comune. Stanno arrivando progetti e attività che già in essere per supportare gli insegnanti, per supportare imprese e territori in difficoltà e stanno arrivando anche progetti che pensano alla ripartenza e speriamo di metterli davvero in pratica. E' bello anche vedere come la conoscenza sul digitale e le varie aziende e le varie realtà stiano lanciando iniziative. Noi siamo partiti nel 2007 con un progetto di diffusione della conoscenza sul digitale gratuito in tutta Italia e ripeto che è molto bello vederne davvero tanti. Quindi continuiamo a lavorare così per costruire un futuro sostenibile e migliore rispetto a quello attuale e ci vediamo online il 7 aprile in occasione della giornata mondiale della salute per Start the Future.